gentili telespettatori buona giornata parliamo ancora una volta di quel giornalista del fatto quotidiano Andrea Scanzi che per sbania di visibilità si è fregato da solo molto spesso capita che per essere visibili devono raccontare tutto è raccontato di essersi vaccinato a 46 anni in una lista di precedenza che non esiste l'ha chiamato l'asl per dire vieni vieni a vaccinarti ti aspettiamo ma arriva la smentita e lui ci fa proprio una figura di da cioccolataio l'asl di Arezzo scarica Scanzi dice ci telefonava lui e quelli come lui che devono accudire i genitori non potevano ancora vaccinarsi quindi questo personaggio tristissimo ha scavalcato la fila con la complicità di qualcuno perché tu puoi scavalcare la fila se ti permettono di scavalcare la fila se no da solo dove vai da nessuna parte e così a non è l'arena Massimo Giletti torna sul caso di Andrea Scanzi che pur non avendone i requisiti ha fatto il vaccino a 46 anni prima di tanti altri che ne avevano diritto il tutto sostenendo di averne fatto richiesta a febbraio ma solo come panchinaro cioè nel caso in cui una dose a fine giornata non fosse stata utilizzata e avesse rischiato di essere buttata da un flaconcino di vaccino si estraggono più dosi e ogni dose va utilizzata entro sei ore dalla diluzione in realtà come ricorda Giletti è conservabile in frigorifero anche 48 ore 48 ore sono due giorni da 24 ore vabbè intanto non tornano le date e le motivazioni Scanzi infatti cambia versioni più volte naturalmente di solito chi dice le bugie non è che cambia versioni che non si ricorda quello che ha detto prima essendo una cosa inventata non se la può di non se la ricorda così cambia persone versione più volte nonostante ci siano i suoi stessi video e i suoi post a confermare ogni ricostruzione da lui fatta per fortuna c'è Evaristo Giglio direttore dell'asle di Arezzo che conferma quello che dice Scanzi ma non la data che è quella del 20 22 febbraio e non quella del 15 marzo e quando Scanzi è stato vaccinato spiega il direttore generale del distretto sanitario Antonio Durso i care giver lo leggo così come si scrive così ci intendiamo non erano ancora stati inseriti dal governo nella lista dei possibili panchinari anche se le verifiche sul caso di Scanzi sono ancora in corso intervistato telefonicamente dall'inviata del programma di Giletti Francesca Carrarini il medico Giglio da una versione particolare che però Giletti aveva deciso di non mandare in onda lo scorso 21 marzo nella telefonata il dottor Giglio spiega Scanzi da quello che lui il suo medico di famiglia hanno detto sarebbe un care giver di questi familiari ammalati che risultano nella lista dei vulnerabili come verificarlo non è uno stato di polizia spiega al medico così che io possa andare a vedere se è vero se a me il medico di famiglia fa una segnalazione del genere lo metto lì in attesa Scanzi era l'ultimo di questa lista anzi si è trovata una situazione convincente per cui avanzando queste due dosi e con cui lui da tempo aveva chiesto di essere chiamato come panchinaro prima non era mai stato preso in considerazione perché per quanto mi riguarda si poteva aspettare anche un altro mese o forse un altro anno da parte mia non c'è stata assolutamente nessuna forzatura da questo punto di vista quando mi chiamò il suo medico io gli dissi che prima di Scanzi ce n'erano tanti altri quindi lui poteva aspettare ma il medico di base del giornalista gli ha detto che Scanzi avrebbe aspettato l'importante che prima o poi fosse stato chiamato al momento opportuno e qui una novità spiega Giglio ho ricevuto altre telefonate anche dallo stesso Scanzi evidentemente gli hanno dato il mio numero e così e che cosa gli avrà chiesto e Giglio risponde mi ha detto guardi non so se il medico le ha accennato la mia situazione io sono sempre disponibile quando voi potete e gli ho risposto che sarebbe passato del tempo perché abbiamo altre priorità però poi il tempo non è passato e queste altre priorità sono venute meno perché Scanzi è stato vaccinato quindi c'è qualcuno qualcuno in contatto con Scanzi che ha fatto in modio che lui venisse vaccinato quindi avete capito mi hanno chiamato quando era lui che chiamava l'asl no dicendo ma il medico mio il mio dico mio personale non le ha accennato la mia situazione ma quale situazione quello che ha dei genitori fragili ma allora caro caro Scanzi scusa tu hai usato la tua influenza per farti vaccinare ma non hai usato la tua influenza per fare vaccinare i genitori di 80 anni con problemi hai usato la tua influenza per farti vaccinare i tuoi genitori non ci hai pensato perché le cose sono due utilizzi la tua influenza per te stesso utilizzi la tua influenza per vaccinare i tuoi genitori hai sempre utilizzato la tua influenza è qualcosa di riprovevole però nelle nelle due casistiche riprovevoli c'è quella più riprovevole che è quella ti fai vaccinare tu quando potevi utilizzare la tua influenza per fare vaccinare i genitori quindi tu ha 46 anni vaccinato i tuoi genitori no perché tu ti sei messo nella lista di attesa in quanto badante dei tuoi genitori che non hanno il vaccino capite che è tutto un po curioso beh non è che proprio curioso guardate che di questi casi ce ne saranno centinaia se non migliaia in italia di gente che sta scavalcando il vaccino non so vi ricordate il primo de luca primo giorno di vaccinazione in campagna è corso all'ospedale io 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 largo largo sono il duca conte fate largo il duca conte semenzana ecco è arrivato subito per farsi vaccinare forse è stato il primo in campagna non lo so però è arrivato di corsa per farsi vaccinare il presidente della regione che vergogna no e poi c'è anche chi lo ha difeso ha dato l'esempio l'esempio di chi ha dato l'esempio di com'è l'italia fatta da questa gente qua di furbi o di quelli che si credono furbi ecco di quelli che sfruttano l'influenza il potere per farsi vaccinare no per salvarsi la pelle da una possibile da un possibile problema grave no lo stesso scansi che definiva questa una semplice influenza no telefonava l'asle è la mia situazione è non vi ha parlato il medico io sono pronto è sono pronto è è scansi è paura è della malattia che squallore ragazzi e ragazze amici e amiche che squallore infinito ecco nel momento del bisogno nel momento in questi momenti si vedono i veri uomini le vere donne in questi momenti nei momenti drammatici di difficoltà si vede chi è chi è chi è e chi sono i veri uomini uomini intesi come genere umano è grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata